E' innanzitutto una straordinaria soddisfazione, per me la seconda volta in due giorni sale così piena, come sempre un gran successo di BTO, grazie a tutti di essere qua. Io oggi ho una grande responsabilità, vi presento insopportabile, che molti di voi hanno visto come un occhio blu. Però volevo dirvi una cosa, nel senso che se volete potete farlo subito, siamo due ingegneri, tutti e due, c'è neanche uno, due, quindi chi vuole andare oggi niente penalità, prova via subito perché sennò dopo parte il discorso. Detto questo, due ingegneri che parlano di silenzi, adesso sarà molto interessante, la formula fisica del silenzio ce l'ha lui, io cazzeggio all'inizio come sempre, e volevo solo introdurre un attimo questa questione dei silenzi, partendo da una cosa che, insomma, lui è sardo, lo sapete tutti, quindi parlo di qualcosa, ovviamente io sono trentino, una cosa che non c'entra molto con il mio contesto, però insomma ho imparato, e vi parlo delle ciaspole, che sono lo sport nazionale in Sardegna, perché chissà cosa sono le ciaspole o chi non lo sa, ecco bene, le ciaspole sono... è un modo come un altro per far tirare su le mani, dai, su, tutti e due, tutti su le mani, no, allora, le ciaspole sono le racchette da neve, servono per andare in montagna a camminare sulla neve senza sprofondare, e le ciaspole sono, nella mia interpretazione, un modo di vivere la montagna diverso dal classico che è lo sci, lo sci, lo sci è, diciamo, nella parafrasi di oggi del racconto, fatemi dire, un po' urlato, piuttosto che è la contrapposizione con il silenzio, di cui ci parlerà poi Gianluigi, molto bene, ah esatto, Gianluigi H, che vedete, tra l'altro non è ancora arrivato, questo H, quando è che arriva? Vabbè, abbiamo fatto un po' una scena prima con i tecnici, ma insomma, tutto a posto. Dicevo, le ciaspole sono la contrapposizione rispetto allo sci del modo di vivere la montagna in maniera diversa, mentre lo sci è un po' urlato per certi aspetti, no, per fare le piste da sci bisogna fare gli impianti, ci si va tutti insieme, in coda, tra virgolette, almeno all'ingresso delle... Mentre le ciaspole è un modo diverso, si va singolarmente, in piccoli gruppi, ognuno sceglie il suo percorso, ed è un'immersione nella natura molto più efficace per certi aspetti, e è molto più rispettosa per altri aspetti, insomma, nel senso che si ascolta il messaggio che la natura, la montagna ci comunica. Ecco, in realtà anche questo sta cambiando. Io ho cominciato ad andare con le ciaspole circa 25 anni fa, ero ancora scuola materna, penso, 25 anni fa più o meno, le ciaspole erano quelle finlandesi, di legno, con le corde sotto, difficili da mettere, ti congelavi le mani, però quando tu camminavi sulla neve erano silenziose, nel senso che la ciaspola si appoggiava, era quasi una carezza fatta dalla neve, e il tuo cammino, in questi contesti bellissimi, era molto rispettoso. Le ciaspole moderne, che sono molto più efficaci, si mettono in un attimo, tengono molto di più, sono rumorose, sono plasticoni, se voi fate un gruppo di 4-5 persone che va in montagna, diciamo che ti devi fermare per ascoltare quello che ha da raccontarti il paesaggio, il fruscio del vento, piuttosto che è più difficile incontrare gli animali, perché ovviamente sei rumoroso e quindi ti sentono. Ecco, anche le ciaspole hanno avuto il loro sviluppo e in qualche modo non c'è una soluzione sempre giusta del racconto di un territorio, non c'è soltanto, non ha detto che le ciaspole siano per forza meglio dello sci. Allora, detto questo, oggi cerchiamo di ragionare su che cosa? Su un modo di raccontare e di vivere un'esperienza all'interno di un territorio che sia meno urlata, che sia forse anche un po' più rispettosa del territorio stesso, partendo dal silenzio. Quindi adesso Gianluigi starà mezz'ora in silenzio, perché io parlo, ma lui no. Tu non hai il microfono, gli lascio la parola. Grazie. Eccolo, Gianluigi. Buongiorno, siete un po' troppi forse, non mi attendevo questa attenzione. Tenteremo di raccontare i silenzi, è difficile raccontare un silenzio, perché appunto fisicamente assenza di suono, assenza di rumore. Proviamoci in questo percorso di racconta, se funziona ovviamente. Eccolo qua. Il silenzio non è solo l'assenza di rumore. Il silenzio appunto è anche qualcosa che prescinde dall'assenza di rumore, come ad esempio l'assenza dei sapori, cioè l'assenza connota il silenzio. Un qualche cosa che non riusciamo a percepire. Lo possiamo associare al silenzio. L'assenza di sapori, per esempio, questa foto evoca una serie di suggestioni, però il sapore ovviamente non ce lo può evocare. Assenza di profumi. La prima cosa, quando arrivate in Sardegna, scendendo dalla nave, siete travolti da questa nuvola di profumi, di macchia mediterranea. Ecco, riuscire a raccontare quell'esperienza è difficile, è un qualche cosa di molto personale, di molto intimo. Il silenzio è l'assenza anche di luce, è forse la cosa che più si avvicina al silenzio, il buio, il non avere niente visibile, il non poter vedere nulla. Ma il silenzio non è solo assenza, il silenzio è anche una presenza minima, un po' più discreta, meno urlata, come diceva Sergio. Cioè, qualche cosa che nel racconto non sia particolarmente eccessivo. Il silenzio è messaggio, è rumore. Il silenzio è messaggio, la scelta di non dire è un autolinquistico, cioè il non parlare è un qualche cosa di deciso, un qualche cosa che noi decidiamo di fare o di non fare. Uso qua le parole di uno scrittore, per fiabe, Luigi Dalcin, che dice dei concetti interessanti. Concentrarsi sul silenzio significa mettere l'attenzione sulla discrezionalità del parlare. Il dialogo è scambio di parole silenzi, perché esiste una conversazione e occorre una scansione del dire e del tacere, un abile dosaggio di pause accoglienti e di intensità della parola. Abile dosaggio di pause accoglienti e intensità della parola. Un po' come le onde del mare, l'attesa e poi l'onda. Il ragionare su quello che è l'aspettativa di un messaggio, che non è detto che arrivi, le onde non sempre sono cicli. Quindi riuscire a raccontare i silenzi e anche riuscire a creare le attese, riuscire a capire come inserirsi in un percorso di racconto e come dosare parole e pause. Questo l'hai fatto in Trentino, giusto? Sì. Riconosco, riconosco. Le ciaspole non funzionano bene. Le pause, pause e silenzi. Le pause sono ovunque, è che non le vediamo più. Le pause sono coperte da un eccesso di racconto. In un mercato globale, in un eccesso di comunicazione, noi vediamo solo il racconto, vediamo solo immagini, vediamo multimedia, sentiamo un rumore di fondo enorme che copre anche quelli che sono gli aspetti minimi che magari ci possono far entrare in profondità con la destinazione, con il messaggio, con l'esperienza che vogliamo vivere. Questo è un mercato locale, metafora del mercato globale, tra l'altro Rocco lo conosce molto bene, non lo vedo, Rocco dov'è? Eccolo là. Perché, insomma, ci ha mangiato parecchi fritti là dentro, quindi una parentesi. Perché? Perché viviamo in un mondo urlato, in un mondo dove tutti hanno tantissimo da raccontare, dove tutti hanno voglia di condividere, dove qualunque cosa, anche le minime, devono essere fruite dagli altri, quindi dobbiamo mettere in condizione gli altri di capire nel minimo dettaglio quello che stiamo vivendo noi. L'esperienza sta arrivando a livelli veramente, il racconto delle esperienze a livelli veramente quasi maniacali, le gravidanze, le malattie purtroppo, ma anche aspetti spesso irrilevanti che forse non è così urgente raccontare in un racconto collettivo, soprattutto di una destinazione. C'è gente che mette su il suo trasloco, la canna nuova, cose davvero faticose, cioè brutto. In effetti, insomma. No, vabbè, ragioniamo però su un rumore di fondo, in un mondo appunto a zeppo di racconti, ossessionato dall'ansia da storytelling. Ecco, questo è, vogliamo raccontare, è sempre stato molto umano il raccontare, il condividere i propri momenti, dalle esperienze di viaggio con le cartoline, si voleva far sapere di essere in certi posti per anche farsi invidiare un po'. In questo invece mondo iperconnesso tendiamo a voler raccontare tutto di noi, forse anche troppo, però spesso, appunto, per l'eccesso di contenuti non riusciamo a cogliere i contenuti degli altri, cioè siamo alluvionati e non riusciamo a capire, a orientarci. Le destinazioni rischiano di essere descritte in maniera talmente precisa che l'immaginazione ha poco da lavorare. Cioè voi andate in un posto già sapendo quasi tutto di quel posto, la suggestione ve la danno altri, peggio ancora, andate in un posto e vivete esperienze di altri, spesso, cioè su percorsi decisi da altri, raccontati da altri. Non avete un po' perso lo spirito della scoperta di un posto, lo spirito dell'indefinito, anche della sorpresa, spesso delle vacanze, uno si ricorda i disastri. Io mi ricordo, normalmente, quando fai delle vacanze ti ricordi di aver perso un autobus e magari aver dormito in una panchina oppure di essere finito sotto un diluvio in un posto sperduto. Ecco, queste cose quasi sono improbabili, non è più facile vivere esperienze anche limite, perché siamo iperprotetti da questo guscio digitale che ci racconta tutto quello che c'è necessario. Non abbiamo più la paura di prepararci per un viaggio con una cartina, ne parlavamo con Marina l'altro giorno, ieri, ma tanto abbiamo il cellulare, non è un problema, troviamo tutti i dati che ci servono in maniera molto semplificata. Ma l'assenza dell'eccesso di racconto diventa a volte chiave di racconto più efficace che un'alluvione di racconti. Cioè, ritornare, togliere un po' al racconto eccessivo, all'ostentazione di tutto ciò che racconta in maniera completa un qualche cosa, forse è più efficace di un'alluvione di racconti. Qua abbiamo un filmato se parte di un progetto sardo di racconto territoriale in cui praticamente si raccontano le immagini e i territori in presa diretta. Non c'è niente. C'è solamente suggestione. Nulla se non suggestione. Ora, non sto dicendo che questo è il modello, sto dicendo che forse è il caso di ragionare su quali siano veramente i modelli più efficaci in questo contesto in cui tutti raccontano nello stesso modo. Forse togliere un po' è più utile, è più intelligente, è più rumoroso. Credo che, insomma, siano abbastanza evocative le immagini. Sergio. La montagna è bella. Ma è sempre il Trentino, io riconosco. La montagna è bella, però vorrei, insomma... Lago di Nervico, lì, guarda. Abbiamo grandi discussioni sul valore della montagna e il valore del mare. Insomma, noi due ci facciamo un po' di risate. Allora, quindi il non detto è suggestione potente. Il non detto è forse quello che spinge di più alla scelta di una destinazione o di un qualcosa da fruire, non necessariamente di una destinazione. Cioè, non raccontare nel complesso una cosa, lasciare qualche qualche cosa che vada immaginata, qualche cosa che rimanga nella propria fantasia, è forse una molla potente, più potente del raccontare tutto. il silenzio in questo caso diventa forse più potente che il rumore eccessivo anche con una colonna sonora bellissima, con delle immagini spettacolari, con un video spettacolare. Dimmi. No, volevo dire, nel senso che credo che ad esempio questi video permettono poi, che raccontano la destinazione, permettono poi a ognuno di noi di costruirci dentro le nostre storie. Quindi, io non ti racconto tutto, ti evoco crea un immaginario ovviamente positivo, il più possibile positivo e poi dopo ognuno di noi si fa la sua storia dentro questi spazi perché qualcuno avrà pensato mi metto a prendere il sole, qualcuno avrà voluto, avrà immaginato di fare una nuotata, qualcuno correva, qualcuno magari invece senti profumi, legge un libro, qualcuno sotto le fronde a prendersi il fresco. Quindi il fatto di lasciare spazio alle storie di ognuno di noi credo che sia un elemento fondamentale, no? Il silenzio va inteso anche in questo termine qua. Proprio l'evitare è di riempire troppo le pause, non abbiamo più pause, la nostra vita non ha più pause, esisteva il tempo in cui ci si fermava a non fare niente, invece adesso riempiamo sempre con qualche cosa da fare, anche con la disponibilità di questi strumenti nuovi che comunque ci completano e ci migliorano la vita, io li uso molto, però abbiamo perso anche quella capacità di sedimentare certe sensazioni, di rimanere un attimo fermi a capire quello che stiamo vivendo senza necessariamente rincorrere la vita tra un evento e l'altro. Questo è un po' non detto è suggestione potente, io ne sono un po' una dimostrazione, cioè io nasco anonimo, sono un personaggio digitale per questo però Justin Bieber ti ha superato però, volevo dire questa cosa mi chiamo H però è curioso che una persona che non esiste suggestioni così tanto più per il non detto anche per il detto ma anche per il non detto cioè quell'aspetto misterioso che rimane dietro una persona che racconta semplicemente una vita abbastanza normale di un territorio molto bello ma comunque come ce ne sono tanti come per esempio la montagna credo no beh quello è più bello scusa adesso discutiamone ma insomma poi faremo le votazioni cioè volete venire in vacanza in Sardegna o no facciamo è curiosa questa 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 cosa qui del del fatto che io addirittura sono diventato talmente riconosciuto nel racconto da essere verificato da da twitter cioè una cosa assurda se ci ragione una persona che non esiste che è autorevole più autorevole di altri che hanno nome e cognome cioè una questione proprio quindi questo dice tanto sulla reputazione anche in rette cioè quando siete seri autorevoli poi è il resto che vi riconosce questo non siete voi a dirvi io sono è sempre chi vi segue chi vi critica chi condivide quello che dite o chi non condivide nel tuo caso eri autorevole per quello che facevi più per quello che eri quindi il tuo modo di raccontare indipendentemente dal fatto che ci fosse un nome il successo che il tuo racconto ha ottenuto certificava la qualità del tuo lavoro al di là del fatto che fosse insopportabile o Gianluigi H effettivamente raccontare pausa e silenzio è complicato non è facile qua abbiamo un amico asino che abbiamo incontrato la settimana scorsa in montagna non è una questione da asini è una questione un po' più da ragionata però è veramente complicato perché raccontare è facile raccontare le questioni minime senza molte parole o senza molte suggestioni io parlo di parole però ovviamente mi riferisco anche a linguaggi visivi anzi in particolar modo i linguaggi visivi perché in un mondo così visuale ovviamente hanno particolare importanza però non è complicato descrivere le suggestioni evocate dai racconti minimi cioè il racconto minimo evoca il racconto con poche cose da suggestione tende a coinvolgere di più che invece un racconto di una ricetta elaborata per esempio anche quello però in questo caso questa foto in particolare ha ricevuto una quantità di contatti e una quantità di feedback enorme ed è una foto banalissima fatta anche abbastanza male per la verità ci sono instagramers qui vedo Alessandra che sicuramente mi starà criticando e Paola anche ovviamente non ce l'ho vista prima non è complicato descrivere le suggestioni evocate ai racconti minimi è complicato ovviamente il silenzio questi racconti minimi sono però quelli che poi lasciano solchi profondi nell'immaginario perché perché il nostro pensiero è silenzio noi nel nostro più profondo io abbiamo il silenzio assoluto e riuscire ad evocare nel silenzio dei pensieri che parlano lo stesso linguaggio ci permette di entrare in forte in forte interazione e quindi è per quello che spesso il silenzio queste suggestioni minime sono quelle che poi ci colpiscono di più ci rimangono di più e diventano un ricordo potente e anche motivazione di viaggio potente qua una digressione alimentare altrimenti ovviamente non posso non potevo che citare la mia santa moglie utilizzo il polpo come metafora comunicativa il polpo bollito con patate olio prezzemolo e aglio cioè sono cinque quattro ingredienti cinque ingredienti così semplice così difficile da far bene la semplicità non è sinonimo poi di scusate la ridondanza di contenuti la ridondanza di elementi di ingredienti in questo caso non è sinonimo di bontà non è sinonimo di efficacia spesso il minimo fatto bene tende ad essere molto più efficace dell'abbondanza questo è un ragionamento importante perché noto sempre di più il voler aggiungere elementi nel racconto ne stavamo parlando prima con Sergio sul descrivere luoghi con parole spesso molto banali molto ripetitive molto ricche di aggettivi di mille cose che poi non rendono cioè sono sempre uguali non lo sentiamo più cioè un rumore a cui siamo abituati un po' come vivere vicino alla stazione del treno due notti non ci dormi alla terza ci dormi poi ci fai figli ci fai tutta la vita cioè ti abitui a questo tipo di racconto bisogna un po' sorprendere sorprendere con pochi elementi è anche più semplice perché? perché avete più tentativi da fare i pochi elementi cucinate in fretta dovete farlo bene ma cucinate in fretta i tanti elementi hanno bisogno di preparazione vanno vanno procurati vanno ragionati vanno cucinati e quindi se posso aggiungere sul polpo? no sul polpo pochi giorni fa mi è capitato un sito turistico che raccontava le destinazioni con ridente località appoggiata ma cosa avranno da ridere purtroppo ci sono ancora queste descrizioni questi tagli questi stili di racconto che sono accademici c'è la aspetta faccio ripetono sì perché quello che stai descrivendo è un buon racconto meglio ancora è una buona comunicazione pubblicitaria la ridente località è una cattiva comunicazione pubblicitaria cioè ricordiamolo questo perché non è che questo stile sia uno stile che può essere usato solo da una persona che magari sceglie di non esporsi in prima persona è la buona qualità di comunicazione che abbiamo dimenticato ma che prima c'era ok sembra abbastanza importante ricordarlo si può anche fare buon racconto urlato se lo stile è giusto però il silenzio è il buon racconto ma sì condivido ovviamente Maffe quello che credo c'è l'obiettivo qua il silenzio è la metafora il silenzio è la metafora intesa come la riduzione degli elementi di comunicazione quindi una soluzione diciamo non si sta dicendo certo ma come dice anche tu non è l'unico però anche solo il silenzio può essere una comunicazione io sarei potuto venire qui rimanere 50 minuti in silenzio e avrei potuto comunque comunicare la mia presenza io credo che comunque anche l'assenza di comunicazione sia comunque comunicazione poi è ovvio che questa è una metafora diciamo un po' declinata su un discorso in un contesto cioè il contesto urlato il contesto iper pieno di contenuti non è più quello adatto per far emergere dei contenuti quindi rientriamo negli ambiti normali beh non è così alcuni l'abbiamo visto ieri col concerto dei mille batteristi dei Foo Fighters insomma quello è comunque rumore e caos che è organizzato e ha trovato insomma io credo che comunque sia un discorso è ovvio che non stiamo raccontando il silenzio come raccontare il silenzio è una metafora anche il silenzio la pausa ecco forse la pausa può essere più appropriato però riuscire a trovare più attinenza col pensiero che è silenzioso dando suggestioni che si integrino bene con questo pensiero e lo sollecitano perché parlano lo stesso linguaggio questo era il senso della però se posso aggiungere credo che uno degli elementi importanti è che in un mondo dove hai detto prima bene c'è un'esplosione di comunicazione incontrollata perché tutti noi in questo momento stiamo comunicando non solo noi due non scrivete niente non solo noi due avere uno stile di racconto di un territorio che va a recuperare anche gli elementi diciamo come dire il territorio che si racconta da solo tramite i suoi elementi naturali in certi casi o di delle ricette eccetera può essere un'alternativa rispetto appunto all'esplosione di comunicazione riprendiamo quindi da qui perché perché come raccontiamo i silenzi difficile raccontare i silenzi gli aspetti minimi le suggestioni profonde possiamo farlo cogliendo il senso della destinazione il senso dei luoghi il senso delle tradizioni il senso delle cose che abbiamo da raccontare fuori dagli stereotipi sempre che non sia una scelta di racconto come più volte si è detto in vari panel come per esempio nel panel di Corleone ieri molto bello che vi consiglio di recuperare rendendolo un sentimento comune cioè facendolo diventare un linguaggio comune aggregando la comunità in un racconto collettivo condiviso che sembra una cosa facile da fare invece è forse l'aspetto più difficile come un pretesto come è stato il sardolicesimo che è un'etichetta proprio un pretesto un là è stato dato il là nel raccontare nel tentativo di raccontare la Sardegna in un modo diverso dagli stereotipi in maniera molto personale all'inizio poi è diventato uno strumento di racconto collettivo che ha preso delle pieghe anche inaspettate che vedremo successivamente per esempio partiamo da qua Michela Murgia è una scrittrice la conoscete in tanti utilizza questo racconto questo pretesto per evocare il senso del cammino a volte l'unico modo per dare senso a un'attesa è camminare le donne di Cabras lo sanno sardolicesimo San Salvatore ora qui c'è un po' tutto una foto che evoca una suggestione qui si è curiosi di capire il perché fanno questo dove si trova Cabras perché il senso dell'attesa cioè da una suggestione quindi un racconto una scrittrice che usa un tema per poter raccontare un qualche cosa che a lei è affine anche le parole basta cioè non necessariamente la foto ma per esempio qua si connota una frase di Grazia Deledda in un racconto collettivo aggiungendogli una connotazione ulteriore di profondità di racconto le grandi cose si dicono in silenzio che è una cosa molto profonda non funziona un altro scrittore utilizza un percorso questo è un video che non vi faccio vedere zoppicando notturnamente per fuggire dal rumore vuole la pace si insinua nelle strade di Villanova che è un quartiere di Cagliari per cercare la pace ecco queste sono suggestioni sono suggestioni potenti che fanno portano a voler essere lì a voler capire a voler percepire le stesse esperienze oppure anche foto non meravigliose che però insieme al testo danno il racconto il senso del racconto anche questo è una cascata dietro un albero nel silenzio sempre il silenzio che ritorna come quasi ricerca dell'esperienza personale esclusiva o addirittura l'enogastronomia sapete benissimo che è forse il motore più potente che muove in questo momento il racconto collettivo i piatti far vedere queste slide ora di pranzo è pura cattiveria vabbè però insomma vabbè ho messo il pane non ho messo altre cose è su coccoi è un pane tipico sardo addirittura Anna Prandoni che è un'esperta di cucina dice che su coccoi è il sardolicesimo fatto pane cioè dà una descrizione addirittura di questo pane oppure anche quadretti quadretti evocativi del vento francese che è il maestrale che spazzola le creste delle onde pioggia a largo gabbiani che svolazzano sguagliati questo è un momento di colto quindi diciamo che è un pretesto narrativo che ognuno utilizza per raccontare in una maniera non convenzionale l'esperienza della della Sardegna raccontare in maniera originale è una delle chiavi raccontare in maniera originale perché la sottile imbarazzante linea che separa lo storytelling dalla cronaca di un luogo cioè qua c'è proprio una distinzione da quelli che raccontano sono qua ho fatto questo bellissimo fighissimo oppure invece quello che tenta di cogliere il senso del luogo prima per sé che per gli altri perché anche questo è un aspetto che ci sta un po' trasformando nell'essere nella presenza in rete cioè il condividere i contenuti anzi creare dei contenuti per condividerli non vivere l'esperienza ma addirittura viverla per condividerla quindi una deformazione proprio della percezione quasi della realtà quindi l'originalità è sempre un motore molto potente e ovviamente in maniera onesta quindi raccontare storie storytelling raccontare frottola è imbrogliare cioè è inutile raccontare esperienze che poi alla resa dei fatti si rivelano non attinenti alla realtà quindi raccontare l'onestà la veridicità a meno che non sia un percorso narrativo scelto quello di raccontare falsità anche perché ormai oggi siamo tutti sgamati subito nel senso che questo mondo di cui parli bene della continua comunicazione se tu racconti una storia che non esiste e dopo un quarto d'ora il primo turista che arriva ti mette la recensione e insomma e la realtà esce subito insomma non c'è più lo spazio per imbrogliare esatto e ovviamente anche la chiave ironica è un aspetto una fortissima chiave narrativa qua sempre dialoghi tra me e Michela amo citare questo a destra dove cito che Sardolicesimo accoglie anche perché polvere di bottarga siamo e polvere di bottarga ritorneremo quindi siamo però ovviamente Michela essendo io uno dei sacerdoti mi dice che io sono pietra e su questa pietra edifico il mio barbecue perché il Sardolicesimo è una religione anche se poi la religione non è molto fondata sulle questioni alimentari è una religione è una religione da risposta agli esigenze basilari dell'uomo voglio dire Sardolicesimo si parla di cibo a ora di pranzo quindi ora di pranzo vi stiamo evocando pensieri un po' colesterolemici allora il Sardolicesimo quindi diventa strumento di racconto collettivo pretesto per cercare nuove chiavi chiavi espressive cioè è un pretesto non è il modo di raccontare non è è un modo di comunicare un modo che ha raccolto intorno a sé una comunità che aveva bisogno di trovare un canale per spiegarsi in una maniera diversa ecco in questo caso è la Sardegna però non è un modo di raccontare che non è esclusivo della Sardegna un modo di raccontare contenuti che è utilizzabile solo per la Sardegna tanto che è tanto collettivo che quel pretesto trova fratelli in altre regioni esistono dei percorsi di storytelling territoriale il carso licesimo l'alliguritudine il sicilianesimo e campagna felix addirittura scelto con un un hashtag partecipato quindi ovviamente se voi andrete a vedere a curiosare tra questi tra questi hashtag vedrete la differenza di racconto tra questi tematismi il sardolicesimo ha una certa connotazione la liguritudine un'altra il carso licesimo un'altra quindi ognuno ha trovato la sua strada perché ovviamente sono le persone i territori che fanno la differenza e connotano il racconto non è il racconto a prescindere che viene imposto da qualcuno da qualcosa perché perché insieme si racconta meglio insieme è facile anche trovare in maniera più veloce uno stile insieme si raffina anche un modo di raccontare e quindi è anche più da anche più soddisfazione riuscire a collaborare nel raccontare insieme un territorio perché ci si sente partecipi di un progetto un progetto anche che può essere semplicemente sociale nell'esporre le bellezze e la qualità della vita in cui si vive solo questo oppure può avere una connotazione ovviamente di promozione territoriale in cui c'è proprio uno scopo di promuovere una destinazione in questo contesto però trovare chiavi di racconto diverse sta diventando una necessità per distinguersi dal racconto condiviso globale perché è urgente la ricerca di un racconto più intimo più esclusivo vogliamo un racconto personale siamo talmente numeri in questo mondo così complicato così rumoroso che abbiamo l'esperienza di viaggio la ricerchiamo sempre di più esclusiva sempre di più ritagliata per noi vogliamo vivere un'esperienza che gli altri non hanno fatto è una molla potente forse è giusto è giunto il momento di lasciare parlare i luoghi e noi rispettosi in silenzio ad ascoltarli far parlare i luoghi nei loro linguaggi anche nel loro silenzio per rendere qua è tagliato ma per rendere il racconto un po' più personale cioè per far parlare i luoghi il silenzio nel racconto cioè il linguaggio proprio cioè non far non essere noi a raccontare con parole nostre quello che il luogo è ma far parlare direttamente il luogo cioè far dire al luogo quello che rappresenta so che è quasi un esercizio linguistico cioè non stiamo parlando di una cosa facile però avvicinarsi a quello che i luoghi raccontano e quindi tentare di parlare lo stesso linguaggio far emergere quel linguaggio lì cogliere quel linguaggio lì e farlo emergere in altre forme comunicative è una chiave che forse è la più potente anziché tentare con altre forme di comunicazione standard di adattarle a luoghi che invece hanno una loro voce una loro personalità un loro modo di raccontarsi raccontare i silenzi più che le parole raccontare l'essenza fuori dagli stereotipi raccontare le imperfezioni anche spesso l'imperfezione è vista come un qualche cosa da 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 rifuggere nel racconto nel racconto di un territorio soprattutto di un territorio invece l'imperfezione è spesso qualcosa che la differenzia che la fa diventare speciale la strada sterrata che rende inaccessibile un posto spesso è invece per alcuni un'esperienza avventurosa che rende appunto quel posto più selvaggio e quindi anche la percezione è diversa da persona a persona quindi dobbiamo essere noi attenti a capire quale può essere la chiave giusta rispetto anche alle persone a cui stiamo dedicando questo racconto raccontare le imperfezioni ma anche non raccontare tutto non è necessario raccontare tutto di un territorio o di un'esperienza perché perché spesso quello che non raccontiamo come ho detto prima è la chiave più importante per far andare le persone a vivere quella esperienza cioè la curiosità la possibilità di essere sollecitati a un qualche cosa di indefinito di non ancora descritto lasciare quel qualcosa di non descritto che poi è la chiave più potente per convincere un turista verso un'esperienza non descrivere tutto ma lasciare qualche cosa di non descritto posso aggiungere su questo? la cosa interessante è che diciamo stiamo dicendo che c'è un modo diverso di raccontare un po' più minimalista adesso passami il termine dove lasciamo spazio appunto alle esperienze dei turisti perché c'è un eccesso di comunicazione troppi dettagli eccetera ma la cosa interessante è che in realtà Sardolicesimo Liguritudine o qualunque altro di questi di questi approcci in realtà sono fatti proprio da chi vive le esperienze quindi è proprio come se i turisti o comunque chi vive quel territorio avesse bisogno di trovare delle chiavi di narrazione che sono diverse rispetto alla chiave diciamo un po' un po' stereotipata della cartolina che tutti facciamo ed è anche un po' per certi aspetti in contraposizione con il selfie invece che mettere me nel paesaggio come elemento fondamentale lascio parlare il territorio nella foto metto il paesaggio non mi ci metto io in mezzo non è che il selfie sia sbagliato anzi ci mancherebbe il selfie sappiamo quanto in realtà il selfie forse è quello che ci aspettiamo che poi quando un territorio si racconta tramite un approccio di questo tipo poi dopo il selfie venga arricchito proprio dai turisti stessi che prendono quelle chiavi di racconto e le interpretano ognuno a modo suo certo non sto criticando diciamo il modo moderno di fruire delle vacanze o di raccontare i territori ma semplicemente ponendo l'attenzione su un accesso di racconto che nel momento in cui si racconta il territorio più che fruirlo cioè nella promozione proprio del territorio più che nella fruizione del turista può portare a una disattenzione cioè una mancanza di attenzione verso quegli elementi più importanti del territorio stesso quindi distrae un po' e non si focalizza invece magari su quegli aspetti che vogliamo raccontare poi è ovvio che in una promozione del territorio uno decide cosa promuovere e quindi quegli aspetti magari più più rilevanti che sono anche gli stereotipi cioè la Sardegna adesso il mare si sa non è che il mare le veline la icnusa e il maiale arrosto quindi sono quelli sono stereotipi ben identificati e la bandiera dei quattro muri che oggi non vedo però quindi insomma un po' quindi però lasciare qualcosa di non descritto è strumento è potente almeno è una sollecitazione potente da lasciare portarsi indietro da un viaggio un silenzio come ricordo cioè quando rientrate da un viaggio spesso quello che vi rimane è qualcosa di non descritto qualcosa che rimane nel profondo è qualcosa che poi vi porta ad avere il mal di una destinazione ad avere la voglia di ritornarci questo è insomma il senso delle cose il tuo stimolo è il mio stimolo e quindi silenzio no il mio stimolo è ovviamente raccontare con più attenzione a quegli aspetti meno convenzionali quindi meno inseriti in un contesto generalista riuscire a distinguersi riuscire ad essere più appunto silenziosi più rispettosi di anche un turista che forse non vuole tutto vuole degli aspetti che lo aiutino a scegliere una destinazione per la sollecitazione per la suggestione rispetto invece alla descrizione maniacale di tutto ciò che è disponibile in quel territorio questo è il senso anche perché in realtà nella comunicazione di promozione siamo ancora molto spesso nella fase in cui cerchiamo di convincere un potenziale visitatore a scegliere una destinazione rispetto a un'altra quindi il fatto di non comunicargli tutto e di lasciare spazio alla sua interpretazione a evocargli dei temi però ognuno abbiamo detto tante volte ognuno di noi cerca la sua esperienza non vogliamo più i pacchetti vacanza fatti finiti in cui io ti prendo ti accompagno e ti faccio tutto io insomma il viaggio in pullman con le padelle per andare a vedere Pompei da casa mia si facevano queste cose questo è un trend sempre più importante insomma la cosa però che a me ne esce di questo è che in realtà questo racconto di promozione del territorio non è pensato solo per chi la promozione del territorio ce l'ha come mestiere quindi le aziende che fanno marketing territoriale piuttosto che gli operatori ma è adottato forse anche di più proprio da quei turisti stessi quindi forse questo ci deve far interrogare proprio il fatto che questa richiesta cerca di silenzio che forse più che silenzio è ascolto per certi aspetti o è comunque rispetto verso il territorio senza voler dire tutto non è solo un approccio di promozione ma è anche un approccio di fruizione del territorio stesso insomma siamo noi i primi turisti che vogliamo vederlo con gli occhi nostri o con gli occhi del territorio stesso esattamente è questo il racconto collettivo anche di chi lo vive il territorio e quindi racconta la sua esperienza di vita in una chiave un po' diversa ma anche del turista che si inserisce in quel racconto diverso e trova il suo spazio e una forma comunicativa forse più vicina alla forma generalista questo è il senso profondo del saldo licesimo quindi niente io spero di avervi raccontato insieme a Sergio che ringrazio tantissimo per il suo supporto questa esperienza del racconto territoriale di avervi ora vi lascio in silenzio alla pausa a pranzo e niente grazie 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 grazie